La mia caverna è stata probabilmente coincisa con il mondiale in Polonia dopo qualche anno che ero già in nazionale, che giocavo titolare nazionale ed è stato un periodo che mi ha fatto riflettere molto, mi ha fatto pensare se veramente fare il salto e andare dentro la caverna al buio ad affrontare quello che mi sarei trovato davanti oppure tirarmi indietro e provare quel minimo di paura che fino a lì, fino a quel momento lì, non avevo mai pensato di provare. In quel momento hai pensato anche di smettere? Sì, forse sì, forse sì. Grazie a tutti.